Aprelo. Un thriller raffinato. Ora, di questo triste incidente bisogna che non sappia niente nessuno. Psicologico. Non dirmi che è stato Luis che è uccita. Realizzato dalla genialità inventiva di Hitchcock. Suspense, dove ciò che è in secondo piano non passa mai in primo piano senza una ragione. Per il ciclo Alfred Hitchcock presenta Nodo alla gola, giovedì alle 21.10.